Allora, diciamo che quasi tutto è stato detto da Rodolfo, io posso fare un po' la storia, un po' poi lo stato attuale di questo progetto che sta partendo. Tutto quanto è nato praticamente da alcune chiacchierate fatte con Rodolfo, ma principalmente l'idea poi è stata successiva, adesso dice che lo dovrò fare io però. Allora, dopo il meeting di erba, l'abbiamo fatto nell'autunno scorso, quando abbiamo visto che attraverso dal vivo la partecipazione è stata buona, però è attraverso la rete che abbiamo visto che c'è stata moltissima partecipazione. Parte la diretta che è stata fatta, poi tutte le riprese di tutte le conferenze sono state messe a disposizione, sono state viste, diciamo, diverse centinaia di volte da astrofili o non sappiamo chi, diciamo da tutte le parti. Abbiamo ripetuto la cosa poi adesso con un meeting che abbiamo fatto a macerata su 400 anni della pubblicazione di Siserio Stuntus e anche lì abbiamo avuto un riscontro positivo per cui abbiamo detto perché non fare anche un... questi sono gli indivizi dove troviamo le conferenze fatte, perché non fare anche questo videocorso? visto che abbiamo a disposizione delle persone che noi riteniamo nostre amiche che ci seguono e in qualche modo anche incoraggiano con la loro partecipazione a queste iniziative, diciamo, professionalmente e umanamente importanti. e allora appunto abbiamo detto, cerchiamo di utilizzare queste competenze sia tra i professionisti che tra, diciamo, i non professionisti per organizzare qualche cosa, un videocorso appunto da mettere a disposizione principalmente all'astrofilo, diciamo, evoluto abbiamo detto però anche di chi volesse in qualche modo interessarsi allo studio dell'astronomia, diciamo, all'astrofilia in generale. che cosa è venuto fuori, quindi, è venuto fuori che si è pensato di organizzare le videoconferenze in tre grossi temi il primo è la gestione di osservatori planetari, elementi generali di astronomia e poi programmi e tecniche di ricerca per astrofilo. questi sono i tre ambiti in cui pensiamo di poter sviluppare il videocorso.